I Cavalieri Teutonici, un ordine monastico militare I Cavalieri Teutonici, conosciuti anche come Ordine dei Fratelli della Casa di Santa Maria dei Tedeschi in Gerusalemme, furono un ordine religioso militare nato in terra santa nel 1190. La loro storia è ricca di avventure, conquiste e controversie, lasciando un segno indelebile nella storia europea. Le origini, l'ordine nacque come ospedale da campo durante la Terza Crociata per assistere i pellegrini tedeschi. In seguito, ottenne il riconoscimento ufficiale da Papa Innocenzo III nel 1199, trasformandosi in un ordine cavalleresco con una regola monastica basata su quella dei Templari. I Cavalieri Teutonici si impegnavano a seguire i voti di povertà, castità e obbedienza, combattendo al contempo per la difesa della cristianità. Espansione e conquiste, nel XIII secolo, l'ordine si concentrò sulla cristianizzazione e conquista delle terre pagane del Baltico. Iniziarono una serie di crociate contro i popoli baltici, ottenendo il controllo di vaste aree che includevano la Prussia, la Livonia e l'Estonia. I Cavalieri Teutonici crearono un potente stato monastico con una propria amministrazione, esercito e sistema economico. Organizzazione e struttura, l'ordine era suddiviso in province, comandate da balivi, e a capo di tutto c'era il Gran Maestro, eletto a vita. I Cavalieri provenivano principalmente dalla nobiltà tedesca ed erano tenuti a seguire un rigido codice di condotta. L'ordine possedeva anche un'ampia rete di commende, ossia proprietà terriere che fornivano sostegno economico all'ordine. Declino e secolarizzazione, dopo la battaglia di Grunwald nel 1410, dove l'ordine subì una pesante sconfitta contro la coalizione polacco-lituana, iniziò un periodo di declino. L'ordine perse progressivamente i suoi territori e la sua influenza politica. Nel XVI secolo, con l'avvento della riforma protestante, l'ordine si secolarizzò e i suoi territori in Prussia furono trasformati in un ducato ereditario. Eredità, l'ordine teutonico ha lasciato un'eredità complessa e controversa. Da un lato, è stato un importante attore nella storia delle crociate e nella cristianizzazione del Baltico. Dall'altro, è stato criticato per i suoi metodi di conquista e per il suo ruolo nelle oppressioni dei popoli pagani. I cavalieri teutonici rappresentarono una potenza militare e religiosa di grande rilievo nel Medioevo. La loro storia è ricca di fascino e di spunti di riflessione, offrendo un'importante chiave di lettura per comprendere le complesse dinamiche dell'epoca.